Dopo il corso di agraria l'Università degli Studi di Brescia ha per le porte anche a farmacia, una scelta per la quale non c'è ancora l'ufficialità ma che vede l'iter per la realizzazione del nuovo corso di laurea già avviato. Per ora non si parla dell'apertura di un dipartimento ma solo dell'avvio di un corso di laurea promosso da uno dei dipartimenti di medicina. Questa è una direzione che rettiamo a essere interessante e uno dei nostri dipartimenti dell'area medica ha fatto un ragionamento abbastanza concreto sulla possibilità di ragionare su questa offerta. Siamo nella fase ancora del ragionamento ma la proposta credo che verrà a breve indirizzata agli organi dell'Ateneo per valutarne la fattibilità. Soddisfatti all'idea di ampliare l'offerta formativa dell'Università agli studenti bresciani? Beh potrebbe essere anche una cosa utile per l'Università di Brescia per attirare più gente anche da fuori. Conosco molti ragazzi che vanno fuori sede perché Brescia non offre determinati corsi e ampliare l'offerta formativa porterebbe gli studenti bresciani a non andare fuori sede a fare l'università. Sarebbe più comodo e comunque d'aiuto magari anche per chi non può permettersi di andare a studiare in un'altra città. Una scelta che permetterebbe ai circa 70 studenti bresciani costretti ogni anno a spostarsi a Milano, Parma, Padova e Pavia di restare a studiare in casa e che farebbe da calamita per le province limitrofe. Per la fattibilità sarebbe auspicabile che il territorio ci potesse sostenere non tanto nelle risorse materiali ma nelle risorse umane. Noi abbiamo bisogno di risorse umane e vogliamo con queste proposte stimolare anche il territorio a contribuire come è fatto nel passato a rendere ancora più grande l'Università di Brescia.